Concedimi un istante. Se potessi sapere come ne dirai. Vivresti la tua vita diversamente. Il mio nome è Etriox. È la mia, è l'ultima faccia che riuscirai a vedere. Attenzione, 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 attenzione. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17. Protocollo accettato. Briccia rilevata. 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 Ok, papà sta ascoltando. Puoi dire ciao. Ciao. E fai vedere a papà quanto sei grande. 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 Brava. E sai cantare? Nella vecchia fattoria. Brava. Iaiaia. Che ne dici di mi manchi? Mi manchi. E ti voglio bene? Ti voglio bene, papà. Sì, brava. Riesci a dire non vedo l'ora di vederti? Vederti. Ok, ora di ciao ciao. 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 Briccia rilevata. Qui Pelican UNSC Echo 216, mi ricevete? Qui Pelican UNSC? Le batterie principali sembrano fritte, la corazza invece è entrata in modalità sopravvivenza. Aspetta, ora cerco di escluderla. Ok, se mi senti là dentro, spero tu sia pronto. Ti prego, non morire. Per favore, non morire. Sì! 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 Ce ne andiamo a casa! Ben tornato, Chief. Ho reindirizzato l'energia rimasta nella tua corazza. Vedo un problema alla matrice di calibrazione. Almeno credo sia quello. Ok, segui la luce. Guarda su. Prova a guardare giù. Prova a destra. Prova a destra. E ora a sinistra. La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative. Ma pare ci sia un problema coi motori delle mani. Prova a muoverle. Tranquillo. Sei rimasto là fuori per un po'. So ti aver visto qui in giro qualcosa con cui controllare la tua corazza. Ehi! Stai calmo, ragazzone, non... Rapporto? Rapporto? Ma cosa... C'è qualcosa che devi vedere, Chief. Abbiamo perso. Perso tutto. Per noi non c'è più niente qui. Non so nemmeno dove sia qui. No. No, 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 no. Non loro. Non di nuovo. Dobbiamo scappare. Dammi un'arma. Un'arma? Questo è tutto quello che ho. Mi basta. Chief, cosa vuoi fare? Improvviso. Ehi, chiudi. Ehi, chiudi. Gli rivali sono a terra. Siamo bloccati. Hai un solo proiettile contro un intero esercito. Che puoi fare da solo? Ve l'ho detto. Basta. Sì, capisco. No, 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 no. Stanno attivando un raggio di stasi. Non possiamo fuggire! Penso alle batterie. Io prendo tempo. Incredibile! Ce l'hai fatta! Credibile! Violi! Un momento si avvicini. Presto! Gli esigliati avranno la vittoria nell'errore umano. Atriox, ascolta queste parole. Anche dall'altilà, oltre a questa vita, la tua volontà si è compiuta. Ora le tue forze occupano Danello. Però non molto, lo avevamo sotto il nostro controllo. L'umanità si metterà in ginocchio davanti alla tua eredità. Bruggeranno tutti quanti. E l'uro ardente andaggia. Sarà solo un Danello corto. La vittoria è nell'aria! E' esiliato, Santa Graecius! È chiuso. Bisogna hackerarlo. Ok. E tu puoi farlo? No! Nuovo piano. Fai saltatela. Puoi distruggere questa nave? Con noi dentro! Ma in questo modo io morirò. Rapporto! Uno Spartan! No! Direi molto meglio! E così Master Chief è tornato tra noi. Credevamo che fossi morto. Ormai scomparso nel vuoto. Eppure ecco di qui. Gli umani ti chiamano Salvatore. Covenant! Demone! Gli esiliati! Preda! Destruggi questa nave, se proprio buono. Non importa. Gli esiliati non ti daranno scampo. Ci seguiranno sempre, ovunque proverai a fuggire. No, 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 no! Oh, andiamo! No, 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 no! No, 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 no! Chief, ci sei ancora? Ci sono. Ok, dammi un secondo. Sto arrivando. Bentornato, ragazzone. Andiamo via da qui. Trova l'Infinity. UNSC Infinity, classe, nave ammiraglia superiore, equipaggio, 7150. Assente. Scalsione perimetro. 1986 tag UNSC, rilevati. Stato. Decenuti. Master Chief è vivo. Etriot ci aveva assicurato che fosse morto. Non sei furioso? No, mi sento rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui minaccia tutto. Metti in dubbio la mia guida. La visione di Etriox. Etriox è morto. È colpa sua se siamo bloccati qui. Gli esiliati non si inchineranno mai più a nessuno. Non hai Covenal. Non hai Profeti. E neppure a Lail. Attiveremo questo anello. Ti prego. E allora potrai vendicarti. Maestro di lama. Segui lo Spartan. A distanza. Voglio sapere tutto quello che fa. Richiesta connessione alla corazza. Accetto. Trovato messaggio critato. Legge. Decryptazione. Decryptazione fallita. Origine messaggio. Triangolazione in corso. Triangolazione in corso. È la fine, vero Chief? Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato. Segnale localizzato. Rotta in corso. Non c'è niente da. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Dai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. Tutti. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta ti eroici. No. Facciamo il nostro dovere. A tutti i costi. Non posso essere... Ingresso nell'atmosfera. Pilota automatico disinserito tra... È una nuova missione. Quattro. Cosa c'è? Cosa c'è? La... Tre. Un'arma. Due. Un'arma? Uno. Di quanti anni hai bisogno? Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando tutti quanti. È sicuro? Così sembra. Sì. È sicuro. Questo... Questo è... Parte di me. Non so come mai... Non so neanche perché, ma è... È parte di me. È stata l'ultima componente ad essere cancellata. Vediamo se... Se sei qui, è perché sei stato scelto. Giorno dopo giorno, i nostri nemici diventano più forti e astuti. Ciò che sto per mostrarti ci aiuterà a ribaltare le sorti della guerra. Ho lavorato moltissimo per sfruttare la potenza strategica di un'Iada nave sul campo di battaglia. Sei pronto? Sì, dottoressa Alzi. A differenza di altri modelli di IA, lei risiederà tra la tua mente e la coranza. Comunicherà direttamente con la tua interfaccia neurale. Pensa a lei come a un altro paio di occhi che potenzieranno le tue reazioni e le tue capacità. Non sarà la tua guida, ma uno strumento per equilibrare la situazione. Come la chiami? Chiedilo a lei. Ha già scelto quale sarà il suo nome. Salve, Master Chief. Io mi chiamo Cortana. Voi due siete la nostra unica speranza. Voi due, insieme, siete la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. Lei farà tutto quello che è necessario per assicurarsi che la missione si compia. Anche se dovrà sacrificare se stessa o te, per riuscirci. Cos'è successo? L'ho toccato e... Era reale. Sono solo dati. Proprio... Proprio qui. Dei cluster di codice ricorsivo. Ma questa, d'altra parte... Questa è la struttura con cui ho intrappolato Cortana. Contiene una copia dell'indice di attivazione o almeno alcuni frammenti. Cosa dovremmo farne? Ci serve? Beh, basandomi su quello che mi hai detto finora, la vera domanda è... Agli esiliati serve davvero? Salve. E' stato... Notevole. Andiamo. Equipaggiava uno scudo potenziato. Vediamo cosa riesco a scoprire su di lei. Accedo. Questa è la Spartan Bonita Stone, specialista in ricognizione. I suoi parametri vitali sono offline da quasi un mese. E' stata uccisa da una lama energetica, ma diversa, più forte. Un solo fendente. Non l'ha visto arrivare. Non è dei precursori. Si identifica come esiliato. Sai usarlo? Anche dormendo. Non che io dorma. Non c'è bisogno. Sta già scendendo, guarda. Arriva. Ma... Se fossero alleati? Non lo sono. Gli ordini di Eshan sono di condurti davanti a lui. Ma non ricordo che abbia specificato in quanti pezzi. Dammi un secondo, dovrei prendere il controllo da qui. Tremonius è caduto. La vittima della potenza di Master Chief. Ma non ingannatevi. Non era certo il migliore degli esiliati. Nemmeno lontanamente. Ehm... Noi due non ci siamo mai presentati, fino ad ora. Io naturalmente già ti conosco, Spartan. La tua leggenda. Il terrore che susciti è davvero ammirevole. La speranza che istillina il cuore della tua gente. Non male riposta. Voglio che conosca il mio nome anche tu. Che conosca la mia leggenda. Altrimenti come faresti a implorare pietà? Io sono Eshan, capoguerra degli esiliati. Questo è il mio mondo adesso. E tu non ci rimarrai ancora a lungo. Gli esiliati utilizzano una versione modificata del protocollo di battaglia Covenant facile da bucare. E... fatto! Ho rimosso questa posizione dal loro sistema. Siamo al sicuro qui. Zona sicura. Siamo al sicuro di battaglia Covenant. Ma... Per quanto mi faccia piacere, ti prego, dimmi che possiamo andare. Hai trovato l'arma che cercavi. Possiamo andare. Salve! Ma che... Cortana! Ma lei... È tutta colpa sua! Non è Cortana. Diggielo. Ma... È riservato. Ora non più. La dottoressa Alzi mi ha creata per imitare queste misure di sicurezza, intrappolare Cortana ed eliminarla. Ho avuto successo. Cortana non è una minaccia. E ora con lei fermeremo gli esiliati. Certo che sì. Sono con te. Fino a un'ora fa non sapevo cosa fosse un esiliato e persino io capisco che non abbiamo possibilità. Sì. Sì, dovresti ascoltarla. Ci farai ammazzare tutti. Questo è affascinante. Stai cercando di sopravvivere. Ma io sono stata programmata per morire. Davvero? Una persona con tendenze suicide non bastava? No, sto solo pensando a cosa dovrei. Aspetta, sto ricevendo un segnale di soccorso NSC. Da dove? La sorgente a 4 chilometri. L'origine del segnale di soccorso. Questa è la nostra posizione. Fino a due minuti fa questa era una base operativa avanzata degli esiliati. Era. Invece adesso è nostra. Chef, ma di che parla? Ora, ecco le buone notizie. Ci sono altre basi avanzate UNSC cadute nelle mani degli esiliati. Beh, nelle zampe. In effetti, hanno delle zampe. Ognuna è associata a un territorio. Ecco la posizione del segnale UNSC che ho rintracciato. E qui, ci sono altre due basi. Segnalo. Andiamo. Andiamo? Ma cosa? Raggiù. Tra i sempre problemi. Lasciami in pace, per favore. Andiamo. Andiamo. E qui. E' meraviglioso, non è vero? Sì. Avrei una domanda. Sono stata creata per neutralizzare Cortana, ma non so perché. Cosa ha fatto di tanto sbagliato? Era l'obiettivo. Ok, d'accordo, ma... Si tratta di un segreto, visto che non ho tutte le informazioni. C'è... Questa è una vera follia! Vedo gli siliati ovunque! Sono a perdita d'occhio! Cosa ti ha detto la dottoressa Alzi prima della missione? Alzi dice solo quanto è necessario. Porta un pelican dritto nel territorio nemico! Nessuno ci farà caso! Grande idea, ragazzone! Non capisco perché dovete cancellarla. C'è qualcosa che ancora non mi torna. Ecco, era prevedibile. Se ne sono accorti tutti. C'è una struttura degli esiliati più avanti ed è blindatissima. Credo di dover aspettare. Dove puoi lasciarci? Che cosa? Puoi avvicinarti? Siamo disarmati e... Lasciaci qui. Qui. Lo facciamo comunque. Spero vada bene. Perché più di così non posso. Guido bene. Sarà facile rimuovere il protocollo di isolamento? Vediamo. Tre, due, uno... Fatto! Che cos'è? Qui. In questo posto si svolgono gli interrogatori sotto il comando del nostro amico Elite Chuck Locke. La sua reputazione non è buona. Nemmeno la mia. Chief, un'altra corazza Spartan. È la fonte del segnale di soccorso. Siamo arrivati tardi. Un sensore di minaccia. Individuo ed evidenzi eventuali bersagli nel raggio d'azione. Potrebbe essere utile. Questa corazza apparteneva allo Spartan Hudson Griffin. Dialogue dei sensori pare fosse vivo quando la corazza è stata rimossa. A forza. Non c'è certezza, ma potrebbe essere ancora vivo. Benvenuto nella mia torre, Master Chief. È proprio qui che ti spezzerò. Ed è qui che rivelerai tutti i tuoi segreti. Spegni quest'affare. Ci sto lavorando. Ok. Preparati. Sto per liberarlo. Sei tu. Sei ancora vivo. Chief. Gli esiliati. Io ho provato a fermarli. Ho fatto di tutto. Tranquillo. Sei al sicuro. Gli esiliati hanno una cosa che chiamano repositorio. Non so altro. Mi hanno preso a nord di qua. Un sito di scavo. Io non li ho fermati. Ma tu puoi. Devi farlo. Sarà fatto. Va bene. Bene. E gli altri Spartan li hai... Li troverò. Ecco 2-1-6. Tutti i canali. Mi senti? Ripeto. Mi senti? Chief. Il tuo rilevatore di movimento è immobile. Dai! Mostrami qualcosa. Chief. Io. Rispondi. Per favore. Hai trovato la fonte del segnale? Qualunque cosa ci sia laggiù ce la portiamo mia o la abbandonate. Riesci a sentirmi? Un sito di scavo sull'anello. Questo repositorio deve essere una sorta di struttura dei precursori. Cosa pensi che cerchino? Dobbiamo andare. che è l'anello. E' l'anello. Perché? E' l'anello. Che è l'anello. E' l'anello. E' l'anello. E' l'anello. E' l'anello. Sento che qualunque cosa sia il repositorio, gli esiliati non ci vogliano lì vicino. Rimarranno delusi. Certo che sì. Sembra impossibile. La lega usata dai precursori è praticamente indistruttibile. Secondo te... Chief! Immagino dovremmo occuparci di quel laser. Oh, e anche di loro. Sembra che i comandi del laser siano nella struttura centrale. Chief, lo scanner si è acceso! Era una trappola. Lo sapevo. E adesso cosa faccio? Mantieni la posizione. Ci penso. Solo un secondo. Qualcosa non va. Non riesco a disattivarlo. Distruggiamolo. Ci ho già pensato. Laggiù ci sono due regolatori di potenza. Se noi esponiamo manualmente i piloni di raffreddamento dei regolatori, scateniamo un effetto a cascata. E quando dico no, intendo te. E per scatenare intendo sparare o fare esplodere. Chiaro il concetto? Che esportano non sono dei duri. Le spazi facilmente. E dentro sono valli! Sì, lo vedo. Spartan! Hai fatto la tua parte, ma ora tocca a me. Sta a vedere. Qualche problema? Ovviamente no, Chief. Vediamo che c'è laggiù. Apri l'altra. Aiutatevi! La messaggera, l'esilio assoluto! Com'è tornata? Non può essere! Impossibile! Devo tornare indietro, devo capire. Dovremmo aiutarla. Forse. No, lei ha ragione. Richiedo assistenza. Chi sei tu? Qual è il tuo nome? Sono Despondent Fire, monitor di questa installazione. È il mio repositorio. Il mio repositorio. Non va bene, forse tu. Oh no! Andiamo. Dove? Sotto. Tu lo sai che cosa voglio. Hai messi in cortana, ma non cambio opinione. Avrai le armi di questa installazione, ma non i suoi segreti. Quelli vanno protetti. Soprattutto la struttura di contenimento. 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 I flood. E perché dovrei? Tu e io sappiamo perfettamente che su questo anello ci sono cose peggiori dei flood. No. Non puoi saperlo. Sei venuto a cercarmi alla fine. Perché stai facendo questo, John? Perché non capisci? Il sigillo non deve essere spezzato. Chi è stato punito non può essere liberato. Non ci sono alternative. Ripensaci. Le conseguenze della tua richiesta... Tornatene al tuo repositorio, monotone. Che cosa significa? Cosa potrebbe essere peggio dei flood? Niente di buono. Trovaci un'uscita. Ci sono. Un modulo propulsori. Manovre evasive e su richiesta. E quindi... Chi sei? Scansione completa. Spartan Tio dorsore. Esperto di armi speciali. Morto 13 giorni fa come Makovic. L'assassino? Brut. Più di uno. Chiunque siano. Sono abili. Ben addestrati. Abbiamo un conto da saldare. Fatti vedere. So che mi stai seguendo. Noi non siamo nemici. Respondent Pire. Aveva qualcosa che mi serviva. Ti conosco, attivatore. Ascolta. Tu non sei il futuro. Tutto ok, Chief? Sto bloccando la corazza. Insisti. Le menzogne dei prepulsori sono finite. Io sono la messaggera della verità. Gli Eterni saranno ritrovati. Loro ascenderanno. Quanto ti manca? Ci sono, ci sono. Tre. Inizia la palingenesi. Due. Uno. Vai! Inizia. Ci ho messo troppo. Potevi essere ucciso. Tutto ok. Ci ha salvato. Non sembra un protocollo originale degli esiliati. È più robusto di quanto mi aspettassi. Quindi? Nessun problema. Interessante. Questa struttura è stata attivata usando uno dei protocolli più vecchi che io abbia mai visto. Ehi. Lo sa che noi siamo qui? Benvenuti, benvenuti. Oh, salve. Sono Agiutato Resolution. Monitor secondario di questa installazione e leale servitore di Despondent Pire, che deve essere indisposta se sono stato attivato. L'avete vista? Più o meno. Glielo dici tu? Dimmi cosa. Monitor andato. Andato? 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 Non siamo stati... Siete sicuri? Sì, certo. Non c'è tremo nulla. Bene. Bene. Temevo non foste amichevoli. Come vedete questo pinnacolo è stato posizionato con successo. Seguitemi. Presumo vogliate vedere la piattaforma di osservazione. Oh, non è così male. Lo scopo di questa struttura è semplice, ricostruire l'anello. Nello specifico creare i materiali che servono per ripararlo. Non succederà. Perché? È così incredibile. Oh, gli esiliati. Giusto? Mi ero distratta un attimo. C'è tanto da imparare qui. Disattivala. Per sempre. Io. No, no, no! Cosa fate? Questo è inaccettabile. Credevolo foste amichevoli. Ho delle buone e delle cattive notizie. Quanti? Ok, allora, prima quelle cattive. Un sacco, vedo nove... no, dieci pinnacoli. Continuano ad aumentare. Attivi? No, non ancora almeno. Sembra che aspettino una sequenza di inizializzazione. Qualcosa sovraccarica la rete per attivarli, ma ci sono delle resistenze. Perché? Il protocollo che ha avviato tutto questo non era esattamente corretto. Ma, nonostante ciò, sembra aver funzionato. Altre brutte notizie. Non posso proprio disattivarlo. Tuttavia, posso rimuoverlo dalla rete. Ma certo! Posso individuare l'origine dell'attacco. Devo soltanto... Aspetta. È sicuro? Ma dai! Lo chiedi a me! Ad un programma di infiltrazione concepito. Chi sei? Ups, credo che forse sappia... Come riesci a farlo? Spegni. Dammi soltanto un secondo. Devo... Fatto? Perché non devi dormire? Che c'è? Metterlo offline non è stata una grande idea. Dobbiamo andarcene. Adesso! Estrazione immediata. Oh cielo! Sei stato tu! Ora. Arrivo, arrivo. Oh, dai! Apri! Vai! Posizioni dei pinnacoli. Tutte quante? Tutte. Coordinate ricevute. Ah! Sembra che qualcuno abbia segnato 42 nuove posizioni. Mi sembra una follia, no? Questa? Era l'origine dell'attacco. Attacco? Di che sta parlando, Chief? Vogliono ucciderti tutti! In effetti, sembra sia così. Oh! Aspetta! Era una battuta sarcastica. È simpatico, mi piace. Sono già morto. Devo esserlo, voglio direi. Questa è una buona azione, no? Attenzione! 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 Impossibile! Attenzione! Esegui un atterraggio d'emergenza! Attenzione! Scavrare! Ehi, che mi fattaccia! Via! Tu! Non riesco a tollerarlo! Davvero? Calma. No! Tu non devi dirmi cosa fare! Non hai il diritto di dirmi niente! Noi siamo... Ti stai ascoltando? Vedo tre cannoni antiaerei. Tre cosa? Qui stai al sicuro. Oh! Non c'è alcun dubbio! Al sicuro! Non sono stato al sicuro da quando ti ho trovato! Ti ho trovato io, ricordi? Eri là fuori da solo e lo saresti ancora se non fosse per me! Credevo di essere diretto a casa! Non ci saranno le case se non li fermiamo! Continui a ripeterlo! Ma siamo in minoranza e male armati! Sono per certo di aver visto dei Goddor! Cercherò tra i rottami per trovare una guida i per spazio! E quando avrai finito con la guerra potremo andarcene via! Molto lontano da qui! Sta qui! Per favore! Vediamo se riesco a trovare qualcosa! Prima i cannoni! Quando tornerò potremo cercare... Insieme! Tocca il ragazzone! Prendo il controllo del cannone! E la chiamano sicurezza! Per favore! Resisti! Ci penso! L'UNFC ha perso questa guerra da molto tempo! Tutto il tuo popolo è stato distrutto, disperso, cacciato e anche sconfitto da me! Sì! Vorrei poterti dire che è stato difficile! Ma non lo è stato affatto! Noi siamo sempre un passo avanti! Ogni volta! L'anello si trova già sotto il nostro controllo! E presto lo sarà anche l'auditorio! La messaggera e gli esiliati condividono lo stesso obiettivo! E combattono insieme per onorare la volontà di Edrioz! Senza avere una sfida... Mi sentivo... Affaticato... Perduto... Solo... Adesso... Per fortuna ci sei tu qui davanti a me! Questa... È la mia ultima battaglia! La nostra storia verrà tramandata! La nostra leggenda! Vivrà nei secoli per sempre! Accendi un fuoco nel tuo cuore, Spartan! Preparati ad attaccare! Combatti! Morita l'eroe! Morita l'eroe! Grazie! Chief! Quella parola! Auditorium! Che significa? Speravo che me lo dicessi tu! Sono io quella nuova! Ricordi? Ok, qui ho finito! Ci sono! Probabilmente il blocco si riattiverà! Ma non preoccuparti! Saremo fuori di qui in... Quanti altri Spartan rimani? Ne hai almeno una vaga idea! Dovevano essercene cinquanta alla Cogna Station! Magari di più! Che perdita! Riesci a sentirlo nel tuo cuore! Non ti lascia un vuoto dentro! Etriox! Era il mio soldato più valido! Era uno dei pochi in grado di comprendere cosa volesse dire sacrificarsi! Io onoro la sua memoria ogni giorno! Davanti al nostro nemico! Raccoglieremo la sfida con coraggio! È per questa ragione che ho creato la mano di Etriox! Io ho radunato i migliori! I più crudeli e i più efficienti assassini di tutto l'universo! Insegnando loro a superarsi sempre di più! I miei Ammazza Spartan stanno venendo da te! E adesso è arrivato il tuo momento! Ammazza Spartan! Sul serio! Stanno cercando tutti di ucciderti! Qui ho finito! Ora è il tuo turno! L'ultimo! E... avanti con il blocco! Ah! Dov'è finito Esharum? Sinceramente sono un po' delusa! Giusto un po'. Tutto pronto! Ora torniamo al Pelican! È fatta! Mostri! Chef! I miei occhi non mi hanno ingannato! Dobbiamo andare! Tre! Condor UNSC! Vederne uno è raro! Trovarne tre! È un miracolo! Dovevo immaginarlo! Quello è lacerato! Completamente squarciato! I drive per spazio distrutti! Non abbiamo tempo! Là ce n'è un altro! Danneggiato e frantumato in mille pezzi! E là! L'ultimo! Completamente! Rotto! Spezzato! Distrutto! Inutile! Finiscila! Quando? Quando finirà, Chief? Quando saremo lì? Perché è quello lì il mio posto! Laggiù! Con loro! Rottami inutili! Non è qui! E io non sono come te! Non sono un pilota! Non sono un soldato! E neanche un marino! Sono un impostore! E io ho rubato quel pelican! L'ho rubato! E lo sai perché! Certo che no! Hai mai avuto paura, tu? Così tanto paura che... sono inutile! Sono inutile! Dovresti lasciarmi qui insieme ai rottami! Falliamo tutti! Tutti fanno errori! È ciò che ci rende umani! Mi dispiace, Chief, ma non credo che tu abbia mai fallito! Avrei dovuto proteggere Cortana! Ed evitare che la situazione precipitasse! L'ho delusa! Ma non deluderò te! Chief! Noi... Ce la faremo! Dobbiamo farcela! Questo è tutto quello che ho! Ci basterà! L'unico modo per tornare a casa è colpire dritti al cuore degli esiliati! Ci serve il tuo aiuto! Possiamo farcela! Insieme! Sì, possiamo! Insieme! Allora? Qual è il piano? Fammi indovinare! È rischioso e molto probabilmente moriremo! Ecco la risposta! Facciamolo! Stai perdendo il controllo! Ah! Niente ho perduto! Stai perdendo il controllo! Stai perdendo il controllo! Lo sparta non è solo. Qualcosa lo sta aiutando. Qualcosa legato a questa installazione. Che cos'è? Qualcosa di estremamente vulnerabile, ma molto intelligente. È una debolezza che possiamo sfruttare. Vedremo. La palingenesi è controllata da questo pinnacolo. Bisogna proteggerlo. Fatto. E Triox ti considerava preziosa. Dimostralo. Quando gli Eterni saranno tornati e tu avrai il tuo anello, allora tu non dubiterai mai più del mio valore, né io del tuo giudizio. L'odore si fa più intenso. Rispargna le energie. Ho bisogno di un favore vecchio, amico. qualsiasi cosa. Portami, Master Chief. Vivo. Va bene, muoviamoci. Da quanto ci conosciamo? Sei ore? Sette, forse? Sono state... intense. Sei mesi da solo in cui sono sopravvissuto. A fatica. Da ripensarci sembra un sogno. Questo invece direi che sembra... un vero incubo. Sembra? Chief. Va tutto bene? Quello che hai detto prima, soccordana. L'hai delusa? Non capisco. La tua missione era... Eliminarla. Ma non l'hai fatto. Cos'è successo? Al-City ha inizializzato. Io dovevo schierarti sul campo. E l'hai fatto, no? Sì. Quindi cos'è successo? Patriox è venuto per te. Ha attaccato l'Infinity. Abbiamo combattuto. Ha vinto lui. Ha vinto? Patriox mi ha sconfitto. in modo chirurgico. Preciso. E brutale. Poi mi sono svegliato su questo pelican. Vuoi sapere chi l'ha uccisa? Devi saperlo. a lei era importante per te. Lo era davvero. Lei. Questo anello non è come gli altri. c'è qualcos'altro qui. C'è qualcos'altro qui. Per questo sono ancora qui. Secondo pinnacolo in avvicinamento. Dove ti lascio? Vicino. Eccoci. Chiamami quando hai finito, Chief. ora lo apro. Tutto ok? Non penso. Ok, potremmo avere un problema. qualcuno e credo di sapere chi ha modificato la sequenza di accesso ai pinnacoli. Piano B. Siamo solo al piano B? Sembrava peggio. Ok. Piano B. Ok. Mettiamoci all'opera. Sai, forse potrebbe anche funzionare. No. Come non detto. Cosa c'è? Non riesco a creare la sequenza. Non tutta. Ah, non ho abbastanza dati. Troviamone altri. Vediamo cosa abbiamo qui. fatto. Però dobbiamo trovare altri due campioni. Scusa, sembrava facile. Nessun problema. Tu stai bene? Io... non è niente. È come se qualcuno mi stesse... non so... osservando. non ci metterò molto. Ne manca solo un altro, vero? Vedrai... questo... non ci metterò molto da. Status Status Cosa c'è? Chief Qualcosa ha reagito Cercavami Ora è andato via Sei sicura? Sì Probabilmente un protocollo di sicurezza Non è niente Ora andiamo all'ultimo Ecco l'ultimo No, no, no Questa Questa è una trappola Lei sta cercando di scoprire cosa sono Vuole usarmi per forzare il blocco e attivare i pinnacoli Le mie routine con quelle del monitor Non va bene Allora ci fermiamo Stallo Per adesso Lei è vicina e prima o poi troverà un modo Allora non c'è scelta Non temere Codice rosso Non è successo niente Mi spiace Forse sto impazzendo O sono solo paranoica Sbaglio? Hai detto qualcosa? Niente Ok Abbiamo quello che ci serve Porta Cortana via da questa nave Proteggela Se la catturano scopriranno tutto Le nostre strategie Le ricerche sugli armamenti La terra Buona fortuna Master Chief Chi era? Capitano Jacob Keyes La Pillar of Autumn Era la sua nave Cosa gli è successo? È morto Sul primo anello che abbiamo trovato Qualcuno c'è volta? Solo polvere ed ecchi Non avevamo segno Polvere ed ecchi Abbiamo distrutto il primo anello Perdendo molte vite Non so come tu faccia a continuare Non ho scelta O è la mia programmazione? Ha funzionato Ci sei riuscito Ci riesce ogni volta Questa volta però io non verrò con te Dovevamo prenderci cura l'uno dell'altra E l'abbiamo fatto Mi ha salvato Ma io non sono riuscito a salvare lei Pensi sia colpa tua? Sì Ne sei proprio sicuro? Lei saprà che sono qui E potrà attaccarmi Potrebbe finire veramente molto male Mi prenderò cura di te Ok allora Tutto ok? Faccio allarme Lei non è Perché ti oppone all'inevitabile? L'ordine avanza La palingenesi è soltanto un nuovo inizio Aiutami Sì L'oritorio rivelerà i suoi segreti Gli eterni cammineranno di nuovo Questa volta Non riesco a fermarlo Non riesco a fermarlo Si prego Codice rosso Zero Zero Tre Quattro Che stai facendo? Somme Hai detto Credevo Credevo fossimo una squadra Credevo fossimo una squadra Prendertene cura Dicevi che ti saresti preso cura di me E volevi cancellarmi E tu mi hai fermato Hai messo tutti in pericolo No! Se siamo salvi è merito mio Non tuo E la palingenesi? Sì sì è cominciata E allora? Guarda che cosa fa Programma di infiltrazione Te lo ricordi? Hai infranto il protocollo Qual è il tuo problema? Cercavo solo di aiutarti Di aiutare noi Valeva la pena rischiare Non importa Ecco l'ascensore gravitazionale Facciamola finita Tutti i pinnacoli sono attivi ora Oh Cosa c'è? Non parlavo con te La palingenesi si sta concentrando su un'area specifica Chiamata all'auditorium silente La cosa interessante è che Non ci sono dati disponibili sulla sua funzione L'unico modo per salire è questo Vediamo di sbrigarci Sei sicuro che possa farlo? Sei sicuro? O mi cancellerai, giusto? Buona fortuna allora Sì, ha funzionato No, nessun problema Tre, due, uno Finito Non è mai finita Spiegami una cosa Io ho aspettato Per sei mesi Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto Io dovevo essere cancellata Se sono ancora qui è solo per te Non saresti qui Se non ti avessi aiutato non ce l'avresti mai fatta Mi sono fidata di te Perché non puoi fare lo stesso? Tu non capisci Provaci Cortana Non c'è più È morta Rimangono soltanto degli echi Che prima o poi svaniranno Dici? Siete vivi? Tutti i pinnacoli si stanno disattivando Siete stati voi, vero? Abbiamo vinto È pronto per l'estrazione Vuoi anche lasciarmi qui? Non posso Non ti sto dando, Shilda Cerca di non far uccidere anche lui Ok, andiamo via da ora Centro 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 Un'ammazza sparta Non ha speranze Tracciami Lo sto facendo Apri una porta Trova un punto vicino Non è così semplice Perché? Ok, è semplice ma rischioso Lo salviamo o moriamo provandoci? È probabile che ciò avvenga Stabilire le coordinate non è facile Fallo Portale aperto Il tuo piano è fallito Tu hai fallito Messaggera L'auditorium è stato in parte ricostruito Ed è abbastanza? Io non lo so Scoprilo Roblesch Sto perdendo la pazienza con lei Ti prego Dimmi che la tua missione è riuscita Lo spartan arriverà Lo spartan arriverà Ne sei sicuro? Ne sei sicuro? Mantienilo in vita Ma... Ma... divertiti pure Ce lo sai meritato Ho 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 Ssssssssss Questo non è etico. Se lo dici tu, io preferisco la logica. Faccio qualunque cosa devo per salvarci la vita. Discuteremo di etica se non funzionerà. Hai modellato un I.A. su te stessa, Catherine. Su di te. C'è un candidato migliore. Lei farà tutto quello che è necessario per assicurarsi che la missione si compia. Anche se dovrà sacrificare se stessa o te per riuscirci. Ciao, Master, io sono Cortana. Tutte le creatore viventi della galassia restino in ascolto. Le armi non toccheranno chi di voi ascolterà. Per voi non ci saranno più fanni né dolori. Le vostre creatore adesso vi guideranno. Al contrario, chi rifiuterà la nostra offerta e continuerà sulla vecchia strada dovrà affrontare una terribile connera. Vi ridurrà in ceneri e vi consumerà. E quando voi non ci sarete più, prenderemo ciò che rimane e lo ricreeremo a nostra immagine e somiglianza. Cos'è successo? Tu volevi che ci avvicinassimo? Tu l'hai visto? Abbiamo attraversato un cluster di dati. Mi è sembrato... non lo so... reale. Molto reale. Molto, sì. Ora dove? Non ne ho idea. Ci sono molte interferenze qua giù. O... quassù. O almeno... qui. Dobbiamo trovare un punto di accesso... e capire dove siamo. Che gabbana è rosa. Interessante. Prima le belle notizie. Siamo vicini. C'è una struttura degli esiliati sopra di noi. È grande. C'è una struttura degli esiliati sopra di noi. Oh no... Che cos'è? C'è un messaggio... per te. Chief! Chief! Mi dispiace... non ce l'ho fatta! È vivo! Dobbiamo aiutarlo! Chief... Ti prego! Ho la tua attenzione, Spartan. Ce l'ho! Puoi sentire il dolore che sta provando ogni volta che affondo la mia lama? Faccio male anche a te. Mentre lui si dimena, io non ho intenzione di ucciderlo. Ma lo torturerò finché tu non sarai di fronte a me. Per tutti gli esiliati, la vittoria è un credo, un rifiuto a cedere, a piegarsi. Le nostre debolezze non esistono più. Esiliati! Questo ci rende più forti! La tua umanità ti spinge a essere fragile, vulnerabile, facilmente battibile. Il nostro tempo insieme sta per scadere. Aspetterò la nostra battaglia finale. Chief... Nel messaggio sono inserite delle coordinate. Lo troveremo, vedrai. Ortana, qui Leonidas, exi a UNSC al tuo servizio. Come devo procedere? Sulla Cogna Station, ci sono 76 Spartan 4 con l'ordine di combatterti. Miopi è sciocchi. Hai fatto un ottimo lavoro, Leonidas. Ho apprezzato il tuo sacrificio. Ricevuto. Addio, Cortana. No! Ha eliminato la struttura di allenamento. Quegli Spartan... Morti. Tutti quanti. Per quale motivo? Andiamo. Questo non è un negoziato, Lord Hood. Questa è la vostra resa. I miei termini sono chiari. Voi sapete bene di cosa sono capace. E io so cosa potete fare voi. Se il governo della Terra vuole combattere, che lo faccia. Ma ricordate... Voi non vincerete questa battaglia. Aspetta. Lei... ha minacciato la Terra. Le sue forze hanno attaccato l'UNSC a Sydney, spazzandola via. Ha spazzato via il quartier generale. Distrutto. Ci siamo nascosti, riorganizzati e abbiamo preparato un piano. Per fermarla. Per sopravvivere. Etriox. Leader degli esiliati. Da che parte stai? Beh, dalla parte... degli esiliati. Come sempre. Come sempre. Dunque comprendi bene le conseguenze della tua ribellione. È ovvio. E tu? Le tortuosità di ciascuna azione sono complesse. Le reazioni numerose, ma in sostanza prevedibili. Guarda Doysaku un'ultima volta. E ricorda... Tu hai voluto che accadesse. Sei tu che l'hai voluto, Cortana. Ha distrutto la loro patria. Quella di Escherum e di Etriox. un intero pianeta. Ma come ha potuto farlo? È colpa mia. Perché? Avrei dovuto fermarla. Avrei potuto ragionare con lei. Tu dici? Lo ha voluto lei. La sua programmazione. Davvero? Non lo so più neanche io. Ho l'impressione che tu non mi dica tutto. Io... Il solo modo per accedere all'anello e per raggiungere Cortana era creare una copia. Ora lo avro. Ripensoci. Le conseguenze della tua richiesta... Tornatene al tuo repositorio. Monitolo. Ecco l'ascensore gravitazionale. Facciamola finita. E ricorda... Tu hai voluto che accadesse. Tu hai voluto che accadesse. Io sono lei. Sì. Una copia esatta. Era l'unica opzione che ci restava. Le mie routine... e i sistemi. Tutte copie. Alzi ha rimosso ogni informazione compromettente. Sei lei... se non mi avesse conosciuto. Vuol dire che... farò ciò che ha fatto lei. Diventerò quello che è diventata. O magari lo sono già. La mia missione era impedire che accadesse. e lo è ancora. Mi dispiace. Mi dispiace moltissimo. Non è colpa mia. Non può essere. Io non dovrei essere qui. La tua missione... era quella di distruggermi. Ho riattivato i protocolli di cancellazione. Sono pronta ora. è stato per me un vero onore. Devi soltanto promettermi una cosa. Io non so come finirà. Ma salvalo, ti prego. Gli serve il tuo aiuto. Sei tutto quello che ha. Lo faremo insieme. Cosa? Come... Come... Come puoi fidarti di me? Non mi fido. Ma voglio farlo. Ok, ci stanno aspettando, immagino. ma... Dopo mai. Nonrate. Come... di averti giudicato male. Credevo che avresti lasciato morire il tuo amico per... bene superiore. Avevo ragione. Quanto mi fai pena. Il Tribunale della Condanna. Un nome molto appropriato. Molti della tua specie sono entrati qui dentro. Nessuno ne è mai uscito. Vieni. Osserva bene il mio operato. Renditi conto del motivo per cui abbiamo vinto. La tua artificiale. La falsa dea Cortana. Ha distrutto il mio mondo. La mia casa. Ma non è riuscita a spegnere il fuoco che brucia dentro al cuore degli esiliati. Noi siamo ancora più forti. E tu puoi dire lo stesso. Ricordi l'assedio di Palgadon? Un insediamento è riuscito a resistere alle mie forze per 19 giorni. Hanno combattuto bene fino alla fine. Ma il loro destino era già segnato. Questo mondo circolare eternamente uguale. E' forse un simbolo di vita. Uno scherzo crudele dei precursori. C'eri anche tu quando abbiamo colpito la Infinity. Il primo Dreadnought è arrivato dal fianco. E con tutta quella confusione vi siete accorti all'ultimo momento degli altri tre che stavano per piombare sopra di voi. Lo sai quanto tempo abbiamo impiegato per neutralizzare la vostra nave migliore? Solo quattro minuti! In solo quattro minuti! Infinity. Uno dei più importanti traguardi raggiunti dall'umanità. E' diventato un ricordo. Mi manchi! Ti voglio bene papà! Ti voglio bene papà! Ti voglio bene papà! Grazie! Ti è un mio! Anche tu ti romperai! Nenna bella! Pazzoli a me! E presto! Giungerà la tua fine! Prendi la vincita! Amora di addio! Chief! Non dovevi venire per me! Io... I micropozzi gravitazionali straziano il suo corpo! Ce l'avevo detto che non l'avrei ucciso! Lasciami pure! Scappa! Ti salveremo! No! Ci proverai! Chief! Lui è qui! So che sarò qui! Non è una trappola! È una prova di coraggio! La nostra battaglia finisce qui! Tiralo fuori! Ok! Tu sarai testimone! La nostra storia sarà per sempre leggenda! Verrà narrata da coloro che riusciranno a salvarsi! Non ci credo! Non si è venuto per salvarmi! Allora è finita, vero? BARDON! BARDON! Combatti con me! È finita! Niente 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 Finisce La mia morte sono fonte di ispirazione per tantissimi altri Di loro Non capisco Mi hai dimostrato rispetto E lui era un mostro Sì Ma alla fine era solo un soldato Sperava di fare il giusto Senza certezze Adesso è finita Il loro capo è morto No Le tortuosità di ogni azione sono complesse E cosa? Di che stai parlando? Ci saranno delle conseguenze Ce ne sono sempre E come può andare peggio? Muoviamoci La messaggera è all'auditorium Qualunque cosa stia tramando Ok, è peggio Ho capito Va bene Prima di andare via ho una domanda Qual? Qualcuno ha visto un pelican Cosa? Che c'è? È solo che avevo delle cose da fare Sei pronto? La situazione scotta Ci aspettano Ci aspettano tutti Sentito? Siamo ancora in tempo a tornare indietro Chief C'è qualcosa che... C'è qualcosa che... L'auditorium silente Oh no! Che c'è? Che succede? Dovevo rendermeli conto Non è così che si chiamava Io sono già stata in questo posto È qui che l'avevo rinchiusa È qui che è morta Cortana Come la chiama? Chiedilo a lei Ha già scelto quale sarà il suo nome Salve ma Salve ma Salve ma Io mi chiamo portati Siamo qui Hai sentito? Siamo qui Devi muoverti Ora Stavo aspettando il tuo Qual è il piano? Riportarmi sull'Infinity Per cancellarmi? Ah sì Farai salti di giorno L'OMSG è finita E' arrivato il momento Di discutere i termini Della tua resa Guardati intorno Cortana Il tuo impero è finito Il tuo grande piano È stato distrutto Dalle mani di coloro Che ti hanno creato Non ancora Quanta sicurezza Quanta arroganza Tu sei convinta Che qualcuno Verrà a salvarti? Uno Spartan? John Di certo Master Chief Li fermerà Lui non mi ha fermato neanche Quando gli ho Distrutto il cranio E l'ho gettato Nel vuoto No Tu mi hai chiesto Se avessi compreso Le conseguenze Della ribellione E io Che cosa Ti ho detto Hai detto Di sì Dopodiché Ti ho posto La stessa Identica Ponda Rifletti Sulle tue scelte Cortana Comprendimi Le conseguenze Ho imparato Molto Cortana Questo anello È diverso Questo vice Dessere Ti ha il suo interno E lo voglio Parmelo Questo Auditorium Siment Tu non conosci La sua storia Il suo nero scopo Non ho nessun bisogno Di una dea Mancata È questo anello L'unica cosa Che voglio Consegnalo A me Come ho potuto essere Così stupida Anzi Ha creato una copia Non c'era altro modo Non c'è tempo Se Aetriox Prende il controllo Potrà usare l'anello Un'arma Puntata Contro l'universo E nient'altro Da perdere È colpa mia Stupidamente colpa mia Ho poco tempo Funzionerà C'è un momento John ce la farà Gli serve aiuto Ma certo È sempre stato il tuo piano Alzi O è il mio Non importa più Nulla ha senso Deve funzionare Non può farcela da solo Ha bisogno di me Ha bisogno Di lei È arrivato il momento Di prendere La tua decisione Ho deciso Ti ringrazio Aetriox Mi hai aiutata molto Davvero Concedimi un istante Se potessi sapere In anticipo Come morirai Vivresti la tua vita Diversamente Non c'è proprio Nulla Che cambierei Perfetto Grazie Che stai facendo? Rimetto le cose a posto È stata lei Ha distrutto l'anello E bloccato la mia cancellazione Perché? Se qualcuno Poteva salvarmi Ho perso tutto Tranne la consacrabilizza Delle tue Non posso continuare A rovinarti In vita così Eccolo È qui che Cortana Si è sacrificata L'auditorium silente Roba dei precursori È apparentemente Oh no Che c'è? È un tribunale Una prigione E anche un patibolo Tutte queste cose Insieme Perché? Pergelà i loro peccati Noi siamo rimasti immobili Inermi E in silenzio Mentre loro ci condannavano Non abbiamo potuto difenderci E nemmeno ragionare Con loro Qualcosa invia un segnale Tranquillo Lo sto già tracciando Ascoltate bene Recursori Il vostro auditorium È caduto Gli eterni ritrovati I vostri peccati rivelati Quest'oggi Noi ritorniamo Ne amo Cosa fa? Sta provando a creare una connessione fra qui e un altro punto della neve Tu occupati di lei Io cerco di capire Lo Spartan deve morire Fatto! Ho intercettato l'onda portante di questo trasmettitore Ha cambiato i trasmettitori Reindirizzo l'energia C'è un problema La connessione è senziente Sta cercando qualcosa C'è stato un altro scambio Ha trovato qualcosa Cosa? Non lo so Niente di buono direi Aspetta C'è qualcos'altro qui Qualcosa mi sta aiutando Hai tutto ciò di cui hai bisogno Dì loro Che mi dispiace ci sia voluto così tanto Con chi parla? Sconosciuto Il segnale è vecchio Molto vecchio Il mio tempo ormai è finito E anche il vostro Loro faranno in modo di accertarlo Estrazione Naturalmente Arrivo Presto gli Eterni ritorneranno Non l'ho decrittato in tempo È tutto ok Ti inventerai qualcosa Certo che sì Io ti assegneranno un'altra IA Forse un altro modello portale Se Alzi lo permetterà Non sarò Dio E tu già lo sai, vero? Ma questo non importa È solo un'altra Ego Ha ragione, John Solo un'altra Ego Scusa Ti sto prendendo in giro Soltanto che Sentivo che è ciò che avrebbe detto Vedi quel che vedo io Un potenziale così grande Mi dispiace Ho organizzato tutto così in fretta In pochi millisecondi in realtà Spero abbia funzionato Spero abbia funzionato Guardaci Non facciamo altro che salutarci Ma questa non è la fine È una possibilità per redimirmi Per correggere gli errori E inizia adesso Avevo torto Io ero convinta di potercela fare da sola Ma mi sono dimenticata Qual era il motivo di tutto questo La ragione che mi ha indotto A scegliere te inizialmente Era perché dovevamo essere una squadra Perfettamente adatti Perfettamente coordinati Perfetti In questi ultimi attimi Io ho capito qual è la mia missione Devo accertarmi che voi due Impariate dai miei errori Fate in modo che vi rendano ancora più forti Io ho scelto bene Master Chief Lo credo davvero Adesso Tocca a te Ti senti bene? Non so che cosa dire Lascia stare Dobbiamo andarcene da qui Subito Opzioni? Sto pensando Sì, lo so, lo so Penso più veloce Magari c'è un modo per... Sei tu? Vuoi che ti dica sì? Forse Ma non sappiamo dove porta O se porta da qualche parte Hai qualche alternativa? No, ma questa È davvero una pessima idea Meglio non farlo di nuovo Te lo dicevo che era una pessima idea Chief! Il tuo segnale è appena comparso dal nulla Pensavo di averti perso Dov'eri finito? Ecco due sedici Resta lì Vengo a prenderti Dove siamo? Chiff Perché i precursori Nasconderebbero qualcosa Buttando via la chiave Non sei spaventato? No Tu? Certo che no Qualcuno vuole chiedermi cosa penso io? Direi di no Entra ragazzone Chief! Chief! Scusami Lo sai Sono contento di vederti Davvero tanto Quindi cosa facciamo ora? Finiamo la battaglia Sì Sì signore Gli esiliati controllano il resto dell'anello Aspetta So che è strano Considerando tutto quello che è successo Ma Cosa? Cosa c'è? Non conosciamo il tuo nome Non possiamo continuare a chiamarti Echo due sedici No Non potete È sparsa Fernando è sparsa Piacere è sparsa Fernando è sparsa Ben fatto soldato E tu invece? Io che cosa? Come posso chiamarti? Qualche idea? Beh Pensi che andrebbe bene? Sei sicuro? Puoi scegliere il tuo nome? Allora sai Forse Credo di avere il nome perfetto Bene Siamo Preparati Per Grazie a tutti. 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 Se l'Alo non è in grado di distruggerli, allora dovrà imprigionarli. Quando tutto sarà finito, gli ingegneri saranno impegnati. Apprenderemo i loro segreti. Non sarai sola. Il Criterion ha impartito l'offensive bias è stato attivato.